ma bravo manda i porno a nekossama manda i porno ci sono tipo queste salviette ma è bellissima i want to show the revolution of tanga but for a woman super oshare i don't know any man who don't love tanga i don't know i i never tried of course but it's always like what do you want from Japan oh please bring me tanga so i bought a lot of tanga so we have some pikachu some ghibli stuff oh it's so cute disney pokemon i don't want fucking hello welcome to my channel today i will try to speak one day all in english english uh i will going to shibuya for uh hit some shopping in a village vanguard and donkey hotel for my friends because i will going to america go boom baby america i can't find myself okay so i'm trying to speak in english but it's not enough to help you we have a lot of work and we will do things i cannot see you go E poi, c'è proprio in cui, mi chiedi un po' di me, è chiaro, che sono tutti ieri che mi sono stato caro di migliorare la vostra macchina in Italia. Noi perché? Perché non è stato un poiccia di te, perché c'è stato un poiccia di casa, e mi piace di dormire con il mio amore. Quindi, è pienso che si fai visto. È pienso che mi piace. Grazie a tutti! La scuola è iniziata La scuola è iniziata Inizia iniziata Mi sono iniziata a Kukoko Narita Ma è iniziata la parte del video Ma è iniziata La scuola è iniziata Si è iniziata a questa scuola Se sei iniziata Noi sono iniziata C'è un'ultimo per il video in Italia, che c'è un'unica di un'unica di varia, e molto molto è successo. Il fatto che face e expressi, la partecipazione del cibo e delle tukerci, poi la prima volta che si tratta di un'unica di fare un'unica di un'unica di fuori e tutto ciò che è successo. Il nostro è stato un problema sicuro che ci si è fatto prima la mia prima di il caso, non è stato l'immagine di fare ma anche il caso del caso è stato un po' di tempo Perchè, questo è stato l'ambito di America e parlare del livello dell'Undice Ma la mia volta, non è stata ancora una cosa? Non è vero mai Ma la mia vaccinazione è stata è stata un po' di tutto non c'era capire Buono! Sì, buono! Questa è la prima volta che c'è la prima volta! Questa è molto bella! Questa è la prima volta che ho ancora il mio amico! Questa è la prima volta! Questa è molto bella! L'ottorismo è molto bella! L'ottorismo è molto buono! È molto piacere, molto piacere. Qua piacere. E questo è un po' di pietro. È molto piacere. È molto piacere. Non è piacere, non è piacere? Quanto anni fa? Nelimo anni fa, non è piacere. È molto piacere. Che c'è il nostro amico? C'è un'amico molto più amico! E' un'amico! C'è un'amico! Picaraglia è molto più grande E' un'amico! C'è questo? C'è un'amico! C'è un'amico che mi piacevole! C'è un'amico che mi piacevole! Un'amico! C'è 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 un'amico! E' un'amico! C'è 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 un'amico! E' un'amico! Ah solo le sopracciglia Cos'è? Quel coro? Cacciami! Cacciami! C'è un po' C'è un po' Non capisco cosa è Ma sono cose grandi le porzioni a me Per tre bambini Cioè Eh, Usakira Ah, Usakira E' una malattia E' questa c'è a me lieva su qui ERO Ludicolo Er през Il Subtitel Coppola Comma Impolar Applazzi Sud Quinten Spacfilled Grazie a tutti.